La Polizia di Stato di Palermo ha tratto in arresto Maria Gallina, 59 anni, e Maria Vitale, 40 anni, rispettivamente moglie e figlia del noto boss di Cosa Nostra, Vitale e Leonardo, in esecuzione di ordine per la carcerazione emesso dalla Corte di Cassazione. Nella serata di ieri, gli agenti del commissariato di pubblica sicurezza Partinico hanno eseguito un ordine di carcerazione emesso dalla Corte di Cassazione, che ha condannato definitivamente la moglie del boss a 4 anni di reclusione, mentre la figlia, ad un anno e otto mesi, per il reato di ricettazione in concorso aggravato dal metodo mafioso. Le donne da anni continuavano a reggere il mandamento dei Fardazza, una delle famiglie più pericolose del territorio partinicese. Avrebbero infatti impartito vere e proprie direttive provenienti dal capofamiglia, tuttora detenuto in regime di 41 bis. Le due in passato sono state già accusate di associazione delinquere di stampo mafioso, in concorso con numerose altre persone, tra i quali i boss mafiosi appartenenti all'ala stragista dei Corleonesi, Leonardo Vitale e del fratello Vito, e di aver fatto parte dell'associazione mafiosa Cosa Nostra, avvalendosi della forza di intimidazione, del vincolo associativo e della condizione di assoggettamento e di omertà, commettendo i reati contro la vita, l'incolumità pubblica, contro il patrimonio, nonché acquisendo il controllo di attività economiche e appalti pubblici. Gallina, ritenuta il fulcro dell'organizzazione criminale, è stata più volte intercettata mentre dialogava con altri esponenti della famiglia per la gestione delle attività criminali, facendo conoscere le direttive impartite del marito in carcere. La figlia Maria, invece, era stata già detenuta in carcere per sei anni e scarcerata nel 2010, con l'accusa di svolgere funzioni di coordinamento e direzione degli associati in libertà, con particolare riferimento alla gestione del settore delle estorsioni e alla destinazione dei relativi proventi. In particolare, la vitale avrebbe avuto un ruolo di fondamentale importanza per quanto riguarda la gestione e la riscossione di denaro relativa ai lavori per la realizzazione del Politecnico di Partinico, unitamente a Racuglia Domenico, attualmente condannato all'ergastolo. Ieri notte le donne sono state condotte dalla polizia presso la casa circondariale Paiarelli, in esecuzione di un ordine di carcerazione emesso dalla Corte di Cassazione.